È circa un ettaro di vigna, produce normalmente vini da nebbiolo con la doc lessona, vino in bianco con la doc costa della sesia bianco, uvaggio con la costa della sesia rosso e poi ho fatto fare con le mie vinacce di nebbiolo, ho fatto distillare nella zona di Asti della grappa a 50 gradi di nebbiolo in purezza. La mia azienda è molto giovane e piccola anche se come azienda è vecchia di più di 100 anni perché la tradizione dal mio bisnonno, nonno, padre e io abbiamo sempre coltivato la vigna anche se prima era solo per il consumo proprio senza vendita, da adesso invece cerchiamo anche di metterci sul mercato con pochissime bottiglie però chiaramente.